ecco partitella tra i mister ecco tra i mister c'è mister Gabriele che ha detto che faceva male il costato abbiamo mister Gabriele qua, Aurelio da quest'altro lato c'è Giovanni, Simone, Matteo Roberto, Giuseppe e Giulio anche i mister si danno da fare ecco mister Gabriele con la sua grinta grazie guido ecco il palleggio di mister Gabriele di testa, il Maradona proprio, il PIB de oro sembrava addolorante al costato mister Gabriele ma mi pare che sta apposta, si è ripreso ecco abbiamo pure Giovanni da quest'altro lato c'è Matteo e segna da solo Aurelio ha segnato con la porta libera Donnarumma dove ecco andiamo grazie grazie